Sua maestà la Zampogna è stata l'ospite d'onore dell'incontro di studi dedicato alla musica etnica e più in generale alla storia e alle tradizioni autentiche del territorio volturnense. A Disernia, questa mattina, nella splendida cornice dell'Auditorium Unità d'Italia, l'evento conclusivo di un progetto ideato e realizzato dall'Istituto Comprensivo di Colli al Volturno. A partire dalle 10, gli interventi degli alunni a cui è seguito quello dell'architetto e storico dell'arte Franco Valente sul tema tra storie e valorizzazione del territorio. Subito dopo la video intervista a Mauro Gioielli e la performance del gruppo di musica etnica Il Tratturo, a seguire gli ulteriori apporti curati da Rossano Pazzagli e Giuseppe Pardini, docenti rispettivamente di storia moderna e storia contemporanea presso l'Unimol. La giornata suggella il progetto di studio, protrattosi per due anni, portato avanti dagli alunni alla scoperta delle tradizioni della propria terra e quindi della propria cultura. Si è arrivati dall'incontro con un giovane musicista nel mio ufficio che temeva io rifiutassi la sua proposta di far conoscere le sonorità tradizionali della Valle del Volturno ai ragazzi, e cioè le sonorità in particolare di Tamburello e Zampogna. La sua idea, la sua iniziativa era quella di coniugarli con i suoni moderni e far vedere ai ragazzi che è possibile conservare le tradizioni conciliandole con la modernità. Io invece gli ho spalancato, anziché da rifiutarlo, gli ho spalancato le classi di tutto il mio istituto in tutti i comuni dove abbiamo i plessi scolastici, e i ragazzi in particolare di Cerro con le due insegnanti Nicoletta Colace e Lidiaizzi hanno accolto la proposta addirittura di continuarlo fino a fine anno. Questo l'anno scorso ci ha portato a un evento a Castello Pandone di Cerro a Volturno dove ci furono due grandi promesse da parte della presidenza del Consiglio regionale nella persona di Vincenzo Cotugno, subito poi a seguito presa anche dal sindaco di Cerro a Volturno Remo Digliani, di patrocinare un grande evento finale qualora ci fosse stata una continuità a quel progetto che però avesse preso un più ampio respiro. E infatti in questa seconda annualità il progetto si è ampliato a far ricercare ai ragazzi le proprie storie, la propria storia, le proprie radici, le bellezze, le ricchezze su cui loro stanno crescendo. E sono state queste ali grazie alla presidenza del Consiglio regionale che ci hanno portato ad oggi. Oggi sono veramente contento. I ragazzi, l'entusiasmo di tantissimi ragazzi delle scuole di tutta la Valle del Volturno che presentano un progetto estremamente bello perché valorizza la nostra storia, la nostra cultura, le nostre radici ma veicola anche le bellezze del nostro territorio. Una scuola innovativa, un grazie veramente sentito a tutti i ragazzi, a tutte le amministrazioni comunali, alla dirigenza scolastica, alla professoressa Ilaria Lecci che con il suo entusiasmo è riuscita a portare in porto un progetto che è partito quasi per scherzo e che oggi si presenta come una grande realtà di una scuola che è veramente innovativa ed è attiva tra i giovani. I ragazzi sono il futuro del nostro territorio e della nostra regione per cui è doveroso da parte di tutte le istituzioni, in primis della regione, essere al loro fianco. Io su questo sono sempre stato presente, anzi con l'ufficio regionale scolastico abbiamo portato avanti tantissimi progetti e molti altri ne abbiamo in cantiere.